ciao sono rogero e con questo video voglio ricordarti l'appuntamento di mercoledì prossimo alle 18 e 30 faremo una nuova serie di dirette in live streaming dedicate esclusivamente all'applicazione alla batteria del materiale visto nel corso lettura ritmica base per cui se non hai già questo fantastico corso gratuito vai ad iscriverti al portale del drum booster.com e poi accedi al corso non ti costerà nemmeno un euro se invece per qualche motivo non potrai partecipare alle lezioni in diretta potrai trovare le registrazioni nella tua area privata a cui accederai gratuitamente cliccando qui sotto ci vediamo mercoledì ciao